In qualche modo è stato fatto un processo mediatico che a mio parere ha aperto anche una problematica da risolvere in futuro, nel senso che non c'è nessun giudice che ha condannato Fausto Brizzi per aver fatto queste cose, mentre invece l'opinione pubblica in qualche modo l'ha già bollato e condannato. So anche che vivo in un paese dove anche un Presidente del Consiglio può fare e dire qualsiasi cosa e probabilmente dopo qualche anno rivince le elezioni, quindi io se fossi in Fausto non mi preoccuperei molto. Io francamente non credo che lui abbia fatto queste cose e qualora le abbia fatte ha sbagliato e credo che qualora le abbia fatte un giudice accerta che lui ha commesso un reato debba pagare. Se non l'avesse fatto secondo me qualcuno dovrebbe poi in futuro chiedergli scusa.